Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, io sono Andrea e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Bene, visto che è già un po' che non lo diciamo, se ancora non lo avete fatto cliccate sull'icona iscriviti e attivate la campanella se non volete perdervi nessuno dei nostri video. Quest'oggi siamo io e il mio regista Frank che stiamo organizzando il merchandising di Curiosando Lanzarote, quindi mi raccomando continuate a seguirci perché in un paio di settimane vi faremo vedere tutte le cose che si potranno comprare con il logo di Curiosando Lanzarote. Detto questo io passerei la linea ad Anita direttamente da Lanzarote per un nuovo video di Puerto del Carmen. Ma mi raccomando rimanete lì perché dopo ho da darvi una notizia. Bleco, che veciosi qua! Grazie a tutti! Direi? Non葉네! Ciao, grazie a tutti! Ciao ciao a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come al solito è pieno. Salutava. Grazie a tutti. 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 Sull'isola di Lanzarote. Però c'è da dire che ci sono state 20 guarigioni. Quindi il totale dei casi attivi. è arrivato a 233. Vi do un abbraccio. Vi do un abbraccio. Vi do un abbraccio grande a tutti voi che ci seguite e vi do l'appuntamento come sempre domani stessa ora sempre qui su Curiosando. Curiosando, Lanzarote.